Il Consiglio regionale ha approvato il 9 ottobre un ordine del giorno presentato dai capigruppo di maggioranza in materia di finanze e funzionamento degli enti locali. Il documento chiede che il Presidente della Giunta regionale tuteli le prerogative della Regione e dell'Assemblea in seguito al decreto legge approvato dal Governo il 4 ottobre. L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità dei votanti. Le opposizioni non hanno partecipato al voto. Ricevuta delegazione albanese Il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo con l'assessore regionale all'istruzione e turismo Alberto Cirio ha ricevuto una delegazione albanese guidata dal Ministro dell'Economia Edmond Axinastow. Erano presenti all'incontro Giovanni Lauria dell'Ufficio di Rappresentanza di Torino della Camera di Commercio e Industria di Tirana, Ben Coggiata, Presidente dell'Associazione Culturale Italo-Albanese e il Console Onorario Arta Andoda. Scooter Sicuro Hanno imparato a guidare l'agoniato motorino in modo corretto, hanno studiato il codice della strada e fatto attenzione anche agli aspetti ambientali del trasporto su due ruote. Per questo un gruppo di studenti è stato premiato a Palazzo Lascaris dopo aver partecipato al corso di formazione realizzato dall'Associazione Scooter Sicuro in collaborazione con la Consulta Giovani. Il corso è stato frequentato da 592 ragazzi di 12 scuole di Torino, Novara e Cuneo. Seminario federalista di Bardonecchia L'interdipendenza e i problemi comuni, l'Europa al bibio fra unità e disintegrazione. Quali scelte per l'Unione Europea di fronte alla crisi? Questi gli argomenti del seminario di studio svolto a Bardonecchia dal 10 al 13 ottobre, promosso dal Movimento Federalista con il contributo della Consulta Europea e dell'Assessorato alla Cultura. Riprende il cammino dei ragazzi in aula Ragazzi in aula è un'iniziativa del Consiglio regionale che da 15 anni offre agli studenti piemontesi una simulazione da protagonisti di una seduta dell'Assemblea legislativa, nel corso della quale vengono presentati, discussi ed eventualmente approvati progetti di legge dei giovani partecipanti. In vista dell'evento centrale del 7 dicembre si è svolto il 9 ottobre a Palazzo Lascaris il primo degli incontri formativi con gli studenti dell'Istituto Mellerio Rosmini di Domodossola. Grazie a tutti i nostri spettatori